Un vecchino di 91 anni di età ha suonato il pianoforte nella metropolitana di Londra. Ci troviamo nella capitale dell'Inghilterra, precisamente nella fermata di St. Pancras. È diventato un divino, un sublime pomeriggio musicale, quello vissuto proprio in questa metro, dove questo 91 anni si è seduto per suonare il pianoforte che gli è stato concesso da parte di alcuni viaggiatori inglesi. La melodia ha attirato l'attenzione di Sally O'Connor, artista del cast di Cass, e la stessa donna ha iniziato a cantiare insieme al vecchietto pianista che stava suonando quella bellissima melodia famosa. In tutto il nostro pianeta, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio altresì per la visione. Il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate. Al prossimo video da un narratore italiano e complimenti a un vecchietto di 21 anni d'età.